E' appena finita la partita contro Olginate che ci vede vittoriose 3 a 0, tre punti molto importanti, ci aspettavamo una gara di grinta di sostanza e così è stato, un lavoro di squadra che ci sta ripagando di tutti gli sforzi fatti durante l'anno e che mostra sicuramente l'upgrade che è stato fatto da parte di tutte le giocatrici e della squadra in sé. Lascio la parola a Martina Moriconi. Siamo molto contenti della nostra prestazione che come ha detto Niki appunto è stata di grinta e soprattutto di squadra ma soprattutto siamo contenti della matematica salvezza e forza promo sempre.